Vito Bardi sarà il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali di Basilicata in programma domenica 21 e lunedì 22 aprile, una notizia che circolava da tempo nei salotti romani ma che non trovava la piena condivisione sul versante lucano degli alleati di centrodestra. Così dopo settimane di attese e costanti messaggi di disponibilità da parte di Bardi, la coalizione ha optato per la linea dei presidenti uscenti, quindi cambiando la strategia adottata in precedenza per le regionali in Sardegna dove invece era stato individuato il sindaco di Cagliari Paolo Truzzo negando così la possibilità all'ex governatore Cristian Solinas in quota Lega di rigiocarsi le sue chance per la rielezione. Con una nota congiunta nella tarda serata di mercoledì 29 febbraio, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati e ODC hanno annunciato la fiducia ai presidenti in carica di Basilicata, Piemonte ed Umbria, rispettivamente Vito Bardi, Alberto Cirio e Donatella Tesei pronti a sfidare gli avversari politici nei prossimi appuntamenti elettorali che seguiranno la competizione del 10 marzo in Abruzzo. Dunque il governatore Bardi scende nuovamente in campo con l'obiettivo di poter replicare il successo ottenuto cinque anni fa contro l'allora avversario Carlo Trerotola. Ringrazio le forze politiche del centro-destra per aver voluto confermare la mia candidatura, ha commentato Bardi. Confidando ancora una volta nella fiducia dei Lucani, il nostro sarà un impegno in continuità con le politiche messe in campo negli ultimi anni e proseguirà nella prossima legislatura rafforzando l'azione di governo in tutti i settori della società lucana. Ho a cuore, ha aggiunto il governatore, la crescita della Basilicata e della sua centralità nel mezzogiorno affinché abbia un suo protagonismo in Italia e in Europa. Soddisfatta la ministra e coordinatrice di Forza Italia Basilicata, Maria Elisabetta Casellati, la quale ha evidenziato la compattezza del gruppo. Ho lavorato perché Bardi potesse portare avanti il suo progetto e continuerò a sostenerlo in questa importante sfida, ha detto la ministra. Nello stesso avviso anche il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti locali di Forza Italia. Il centro-destra unito dimostrerà di essere in grado di governare la nazione e i territori a lungo, ha affermato il forzista. Sul fronte centro-sinistra invece resta lo stallo. Da un lato il PD che sostiene Angelo Chiorazzo, figura indicata da Basilicata a casa comune. Dall'altro il Movimento 5 Stelle, che a parte una minoranza interna, non sostiene l'imprenditore di Senise, ritenendolo a rischio di conflitti di interesse per le numerose convenzioni che gestisce, alcune anche con la regione, nella sanità e nei servizi sociali. Così nelle ultime ore sembrerebbe che il presidente pentastellato Giuseppe Conte abbia chiesto all'ex ministro del suo governo Roberto Speranza di fare un passo in avanti e candidarsi, ma questa non sembrerebbe un'idea accattivante per il potentino oramai concentrato sulle dinamiche nazionali. Dunque i pentastellati insistono con una terna di nomi della società civile. Si parla di Alberto Iannuzzi, presidente della Corte d'Appello di Potenza, Giambattista Bocchicchio, manager ASL e Rocco Paternò, presidente dell'Ordine dei Medici. Sono autorevoli personalità che valutiamo positivamente. Questa è la dimostrazione concreta che si può costruire la coalizione. Dobbiamo recuperare il tempo perso, hanno dichiarato le segreterie regionali di Alleanza Verdi Sinistra, Partito Socialista Italiano, la Basilicata Possibile ed Azione, che allo stesso tempo hanno chiesto a Chiorazzo di accettare il confronto senza pregiudizi, senza schemi preordinati e senza soluzioni imposte dall'alto.